un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale questi giorni mi dovete scusare purtroppo sono molto impegnato e mi tocca fare tutte le cose di corsa sono anche rimasto molto indietro a rispondere ai vostri commenti che comunque ho già letto fortunatamente anche oggi sono riuscito a trovarvi una partita che reputo eccezionale giocata tra il campione del mondo magnus carcena e fabiano caruana che è stato suo sfidante per il titolo mondiale attualmente numero 6 della classifica si tratta di una partita blitz a 5 minuti giocata al torneo speech s di chess.com una partita dicevamo blitz ma secondo me giocata al pari se non meglio di tante partite a tempo classico una gemma di strategia e allora non dimenticate like al video e partiamo in questa partita magnus carsen di bianco apre con e4 caruana risponde con e5 cavallo in f3 cavallo in f6 la difesa russa dove caruana è uno tra i più grandi specialisti del mondo e allora carsen cattura il pedone centrale caruana gioca d6 scaccia il cavallo prima di riprendersi il pedone cavallo torna indietro in f3 cavallo cattura in e4 e allora carsen spinge al centro d4 e arriva d5 stessa idea non solo protegge il cavallo ma caruana non vuole perdere spazio al centro allora alfiere in d3 ora cavallo in c6 alfiere in e7 che forse forse quella migliore o alfiere in d6 sono le tre linee principali ultimamente i grandi maestri stanno sperimentando alfiere in f5 la giocherà anche caruana in questa partita arriva quindi alfiere in f5 arrocco corto per carsen anche il nero deve arroccare ottenuto il più velocemente possibile quindi arriva alfiere in e7 torre in e1 arrocco corto anche per caruana e allora c4 che attacca uno dei due difensori del cavallo e la mossa più giocata e invece carsen gioca un'altra mossa ottima cavallo in b che va in d2 vedete terzo attacco sul cavallo protetto soltanto due volte abbiamo già visto questa posizione ci dobbiamo ricordare che al nero non conviene cambiare i cavalli perché dopo cavallo per cavallo il bianco non riprende il cavallo ma vince la coppia degli alfieri e allora il cavallo sotto attacco torna indietro in d6 proteggendo l'alfiere il cavallo di carsen continua la sua manovra cavallo in f1 per il nero non è male andare a cambiare questi alfieri campo chiaro certo una mossa tranquilla per equilibrare ancora di più la posizione più intraprendenti sono cavallo in d7 o anche c6 e infatti caruana gioca c6 alfiere in f4 attenzione che questo semplice sviluppo minaccia di vincere un pezzo pieno perché alfiere per cavallo gli rimane sospeso questo alfiere campo chiaro e allora è arrivato il momento di cambiare alfiere per alfiere la donna ricattura in d3 e qui mentre carsen ha completato lo sviluppo caruana deve ancora completarlo guardate che succede con la con lo sviluppo che sembra il più semplice del cavallo dopo cavallo in d7 non giocato infatti da caruana vedete che questo cavallo poi come sviluppo ha soltanto questa casa f6 ma portandosi in f6 blocca l'alfiere campo scuro e allora ritornando alla nostra partita è per questo motivo che caruana lo sviluppa prima in a6 per portarlo in c7 la casa finale sarà e6 e allora cavallo in e3 cavallo in c7 e carsen decide di cambiare l'alfiere sul cavallo alfiere per cavallo in d6 l'alfiere ricattura una sola partita è rimasta in database con questa posizione dove il bianco aveva giocato cavallo in f5 poi la partita era finita impatta arriva qui la novità del campione del mondo g3 mossa migliore per il computer riduce le case a disposizione dell'alfiere scuro di caruana controlla delle case importantissime e allora torre in e8 re in g2 alfiere in f8 inizia essere un po' passiva perché caruana vuole tenersi probabilmente l'alfiere per il finale ma intanto carsen inizia il raddoppio delle torri dei pezzi pesanti sull'unica colonna aperta ottenuto quella centrale allora il cavallo si muove in e6 torre in a che va in e1 cavallo in g5 cavallo per cavallo la donna ricattura e arriva la spinta h4 donna sotto attacco si porta in g6 cosa vuol fare caruana vuole cambiare le donne per equilibrare la posizione ma carsen le donne non se le fa cambiare cavallo in f5 fa da scudo alla donna apre un terribile attacco contro la torre quindi bisogna andare al cambio torre per torre la torre ricattura e guardate adesso carsen domina la colonna centrale donna in f6 e allora arriva anche h5 guardate c'è sempre meno spazio per il nero sempre meno le buone mosse a disposizione di caruana che comunque gioca una delle mosse migliori che è g6 ora se il bianco cambia il nero inizia a respirare un po e allora che cosa fa carsen torna indietro col cavallo lasciando il pedone in presa ma non bisogna catturare infatti per adesso caruana non lo farà come mai non bisogna catturare andiamo a vedere che succede dopo l'immediata g per h5 non giocata in questa partita torre in e5 non solo si ripiglia il pedone si è aperto dal rocco guardate che minacce terribili sulle case intorno al re nero allora dopo cavallo in h4 alfiere in d6 vedete questa alfiere in questa f8 ci stava male e allora donna in e3 che si gioca adesso come nero forse anche re in g7 torre in c8 torre in d8 e poi però non è facile portare la torre purtroppo sulla settima traversa perché bisogna anche mantenere la protezione dell'ottava traversa allora cosa fa caruana alla fine cattura questo pedone questo è un gravissimo errore qual è la sua idea lo vedremo subito intanto carsen gli gioca donna in d3 cosa fa questa donna in d3 controlla l'importantissima casa f5 più che altro libera la casa e3 per la torre allora re in h8 eccola l'idea di caruana che non sapeva come attivare la torre vuole portarla sulla colonna g e ma guardate che succede donna in f5 carsen stavolta che propone il cambio donne che è una grandissima idea strategica lasciando il pedone in presa un pedone che non si può catturare perché dopo donna che cattura in d4 non giocata da caruana il cavallo viene ricentralizzato con tempo donna in g7 donna in d7 e cade il pedone b guardate che danni enormi oltretutto con tempo alla struttura pedonale e poi tutti i pezzi del nero in maniera passiva allora è costretto quasi caruana a cambiare le donne donna per donna il cavallo ricattura e attacca l'alfiere attenzione che se lo si mette in c7 arriva subito torre in e7 e allora l'alfiere purtroppo deve ritornare in f8 guardate bene questa posizione perché se capiamo queste questo modo di ragionare di questi campioni miglioreremo tantissimo i nostri scacchi cosa bisogna fare negli scacchi quando non c'è un immediato tatticismo o un'immediata minaccia bisogna migliorare i pezzi ora guardate i pezzi del bianco e non scordiamoci che tra i pezzi c'è anche il re allora la torre di karsen domina la colonna centrale aperta il cavallo domina l'alfiere questi due pezzi non possono stare meglio di così e allora guardate karsen porta avanti il re re in h3 caruana gioca a 5 re in h4 si riprenderà il pedone arriva anche a 4 re che cattura in h5 re in g8 del nero re in g5 arriva c5 e ora guardate d per c5 provoca un ulteriore danno alla struttura pedonale perché dopo che caruana ricatturato è uscito fuori anche centralmente un pedone isolato allora il pedone isolato va attaccato karsen gioca torre in d2 attacca il pedone torre in d8 lo difende il pedone isolato non deve avanzare arriva c3 cavallo torre pedone non lo fanno avanzare re in f8 e arriva f4 torre in d7 sulla settima re in g4 f6 e noi siamo arrivati al nostro quizzone perché la partita questo finale è naturalmente posizionale cosa giochereste al posto del bianco pensateci bene è sempre una mossa strategica una mossa posizionale quindi mettete pure in pausa se volete e da voi la parola ritorniamo subito a noi b4 giocata da karsen ma anche b3 sono mosse da un punto di vista posizionale micidiale come mai karsen giocherà b4 andiamo a vedere che succede con b3 ora qui se a3 arriva b4 alfiere sotto attacco cavallo in d4 casca il pedone e dopo b4 giocata in partita da karsen ora che succede se a per b3 il pedone ricattura mentre la struttura pedonale di karsen ha due isole pedonali il nero rimane con quattro pedoni isolati e allora è per questo motivo che torna indietro con l'alfiere caruana arriva c4 attacca il pedone che è inchiodato sulla torre sospesa e allora d4 ma c5 gli toglie un difensore alfiere in c7 cade il pedone centrale re in e8 qui funziona tutto alla mossa 42 karsen gioca b5 guardate tutte le minacce prendere ancora più spazio catturare il pedone dare prima uno scacco caruana abbandona per il computer infatti è più 6 come se il bianco avesse due pezzi di vantaggio incredibili veramente queste partite blitz del campione del mondo che dimostra ancora una volta una forza posizionale superiore in questo momento a qualsiasi altro avversario perfino ad un numero uno come caruana che si deve in questa sfida dello speed chess si deve inchinare al campione del mondo digerire una sconfitta pesantissima pensate 20 punti 22 punti a 4 spero che questa partita vi sia piaciuta che vi abbia anche insegnato qualcosa a me sicuramente ha rafforzato tanti concetti non dimenticate di iscrivervi al canale e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video a presto grazie grazie grazie